Buonasera e benvenuti al TG Mimmo, io sono Franz M. Clure, forse vi ricorderete di me per i filmini a casa di Mimmo e i laboratori artistici di antonioedomenico.it questa sera stranamente non ci sono notizie a causa dello sciopero dei giornalisti e colleghi ma noi che siamo un emittente privata andiamo in onda lo stesso con il nostro telegiornale io sono Franz M. Clure e dato sì che non ci sono notizie passiamo la linea al nostro sommelier del professor Gustavo dei vini per la rubrica enogastronomica gusto ci troviamo in un piccolo paesino dell'isola di Schia dove le colline sono sempre verde e la valle sempre fiori ci apprestiamo a degustare uno dei più pregiati vini isolari il vintage rosso delle cantine di Foglia Cristi abbiamo strappato una bottiglia del 79 un'annata d'oro per il vintage delle uve rosse isolare colore intenso riflessi scarlatti in prospezione di rubini e rubinace nel quale si intersecano e si evolvono il primo sentore di mo' mele auricchie bepe tabacca e sigarette si len times l'arpe Cal al gusto provoca un tannino del 40%. per cento di potenza, ma non è raro trovare anche tannini del trenta del cielo. Dal retrogusto, sua dente e consistente, ci immaginiamo di correre felici e spensierati in un campo di puffbacche, che denotano la presenza di alcuni dei personaggi del famoso cartone animato, i puffi. Si consiglia di abbinare il vintage rosso di spogliacristi a seconda e a base di cacciaggiù, che li, volatili, a base di quagli al forno. A presto cari amici. Ammi una sigaretta. Fai un piccino. Aia... Ammi una sigaretta. Ammi una sigaretta.